Ti sei addormentato subito? Perdono, smetti la letteratura, ma anche giornalismo. C'è un giornalista in particolare che, se conoscete per il suo programma Quarta Repubblica su Rete4, ma molti lo conoscono per il suo lavoro sul web. È diventata virale la sua zuppa di porro. Noi ne abbiamo un estratto esclusivo. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 29 novembre 2020. Salutiamo anche i due puzzoncini di sinistra, Luca e Paolo, e alla B, perché non si può dire bella, che sennò succede quello che succede e non. Si può dire forse neanche mia, perché sennò spunta una murgia che dice ma cosa dici, come ti permetti, non è tua, perché mia è un aggettivo, ma non solo un aggettivo, è un concetto, non è tua. E quindi, vabbè, fino a prova contraria. Ciao Ceran, che rimane sempre una bella topolona. Allora, sostanzialmente oggi le notizie sono queste. Cominciamo dal giornalone del virus. Toc toc, ci sei Natale, no, per il correrone. Di via Solferino il Natale non si fa più, non si bisboccia per citare il ministro comunista che vuol far anticipare la messa a due ore prima. Ma che due ore prima? Allora togliamo tutto. Basta, via Natale, direttamente, via i regali, via le cene, via le vacanze, via l'albero, rimarranno solo le palle, le nostre. E passiamo al fatto quotidiano che rivela De Luca inventa posti di letto, fasulli, toc toc, ci sei De Luca? In un'intercettazione, in corsia, un medico, pensate, dice che De Luca si inventa i posti letto. Ah, chissà che scoperta! Non è la prima volta che De Luca si inventa dei posti fasulli. Il primo posto che si è inventato è il suo, il posto di lavoro, quello di governatore. Comico e drammatico, perché fa un po' ridere, un po' piangere, un po' ridere, un po' piangere. Questa è la verità. E a proposito di verità, eccolo qua il titolo, regalo di Natale, la patrimoniale. Toc toc, ci siete soldi? No, ma io, Stato italiano, cosa faccio? Sono buono, non li voglio ora i soldi, me li darai poi con calma al 30 di aprile, il doppio. Dove prenderemo i soldi? Boh, ci si penserà. Intanto auguri, auguri col cannocchiali vi vorrei vedere. Da lontano, governo di incapaci, di celtroni, di comunisti, lo dico perché sono un uomo libero. E io ho mille interessi, potrei fare questo lavoro, ma io potrei fare altri, potrei viaggiare, cucinare, come faccio. Ho mille interessi, non sono obbligato a fare questo lavoro, quindi sono libero. Potrei non farlo domani, libero. Mi avete tolto tutto, ce l'avete tolto tutti, ma non toglierete mai la libertà di dire che sono libero anche di mandarvi a quel paese. E siamo al gran finale. Sui vaccini. Allora, su Repubblica la solita barzelletta. Toc toc, ci sei vaccino? No, anzi sì, ce ne sono tre. C'è un italiano, uno americano e uno tedesco. E quello italiano pensava di passare avanti agli altri. Ah ah ah, matte risate. E intanto, toc toc, in Cina ci sei? In Cina no. Dove è partito tutto? Non c'è più nemmeno un caso. Che fine ha fatto il virus? Non si sa. È sparito. L'avranno mangiato, eh? Perché si sa che fritto è buono tutto. Anche una scarpa. Buona domenica, stronzi. No, stronzi. Ma perché? Ma perché? Ti ospitiamo. Vabbè, vabbè.